Com'è andata? Siamo reduci dal ponte, si è mosso qualcosa? Direi, posso dire di essere moderatamente soddisfatto perché rispetto alle due settimane dal 18 che abbiamo aperto, abbiamo notato un leggero incremento. Molto lentamente si riprende, ma lentamente, speriamo. Le spese sono troppe, le spese sono troppe e si fa fatica ad andare avanti. Si sta muovendo, un po' alla volta prendono coraggio, però in questo periodo adesso hanno fatto il ponte, c'è stato un po' di tranquillità, ma vedo che un po' alla volta prendono coraggio. La situazione è rimasta invariata come lavoro, si vede un po' di movimento, ma siamo ben al di sotto del classico lavoro che facevamo sempre. Qualcuno è più ottimista, qualcuno meno. È un bilancio in chiaro-scuro quello sul lungoponte del 2 giugno, il primo della riapertura al movimento in regione per il centro di Padova, penalizzati non solo dall'assenza di turisti. Manca tutto il mondo studentesco, diciamo che i padovani comunque in genere cominciano a muoversi. Speriamo che almeno il turista italiano arrivi un po' alla volta, dopo speriamo anche lo straniero che arrivi. Noi lavoriamo principalmente con impiegati che sono a casa in smart working, studenti che non ci sono, di conseguenza non ci sono genitori, non ci sono professori, mancano i turisti. Lei capisce che è dura. Per noi anche il discorso dei ragazzi, dei studenti, stiamo già entrando nell'ottica confermata che dovremmo aspettare sicuramente settembre per vedere un movimento come prima, se riparte tutto, scuola. E sul prezzo del caffè 1,10 euro o 1,20 euro? Io l'ho portato a 1,20 euro, però il periodo adesso non sto facendo pagare servizio al tavolo, perciò penso che, anche come dicevo, ha sempre adeguato il prezzo del giornale. E il caffè quanto lo fa pagare? Noi il caffè lo facciamo pagare 1,10 euro al banco e 1,50 euro servito al tavolo. Abbiamo tenuto il prezzo di sempre, 1,10. La mia paura è che aumentare il caffè, il cliente, viene una volta, viene due e poi non torna più. Noi siamo ancora fermi, abbiamo lasciato le bocce ferme come prima ancora, per cui stavamo valutando questo discorso dell'aumento, ma non legato a un discorso di coronavirus, ma legato anche al fatto che noi siamo rimasti fermi col prezzo molto tempo e i costi sono aumentati. E come avete sentito, Padova è ben lontana dal tornare a quel che era, oggi è 3 giugno, questa è via Roma, una delle vie più popolose di Padova e come vedete di gente in giro ce n'è veramente poca.